Questo è un accendino colibri, questo accendino colibri perde dalla valvola di carico, fuel gas. Io ho due modi, ho questo e distruggo la valvola, la distruggo, oppure questo perché presento in questo modo questa valvola non si riesce a svitare completamente, quindi io provo così, provo così come si fa sempre, poi cerco di girare ma non si gira. Allora io ora proverò a fare in un modo, che non è tanto bello però, questo lo si può fare solo con accendini che non sono laccati, non è possibile, solo per questo, puoi fare questo. Look. Ok. Usa questo. Ok. Quando sento che è caldo nella mia mano, io proverò ad uscirla. Dovete avere un po' di pazienza, non posso mettere in pausa il video, magari voi andate avanti per vedere le estrazioni. Ecco che si sta riscaldando. Non l'accendino, non l'accendino, non puoi fare questo, devi distruggere e poi cambiare. Anche per il DuPont vale la stessa cosa. Se non si possono estrare devi fare in questo modo. Anche per il DuPont vale la stessa cosa. A un certo punto provo, chiuso il gas, provo e vedo se… sì, perfetto. Vedete? Guardate. Vedete? Guardate. Ok. Ecco. La valvola adesso è uscita. Voi non lo vedrete, ma la valvola è uscita. non ho tenuto. La mettiamo nell'acqua. qua. Perché è caldissima. Bene. Si potrebbe ancora riparare. troppo calda. a questo punto per sicurezza cambiamo anche queste o-ringhe. che non mi sento sicuro che siano funzionanti. veramente molto stretta. come o-ringhe, molto stretta. non è facile. Tutta la prima, toglierò anche pesta. ok. la metterò queste. sembra strano che ho usato queste io. molto strano. troppo piccola. com'è, com'è, com'è. troppo piccola. com'è, 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 com'è. è proprio al limite, al limite, al limite. no questa non mi sembra lei devo prendere un'altra no no troppo piccola sì questa mi sembra migliore come guarnizione vediamo ah sì molto meglio meglio insinare questa è la 06432 06 4,2 26 e l'altra ok adesso metterò un po' di grasso pochissimo va bene e dobbiamo aiutarci con gli attrezzi non è questo questo non è nemmeno se questa si e questa si questa è sua bomba quindi prendiamo il nostro al nostro asse mettiamo l'asse qui andiamo il nostro aggezzino sempre arrivato adesso prendiamo la nostra cosa usiamo questo qui poco pochissimo ok ok per caricare e vediamo che cosa abbiamo combinato so presa sempre buono mettiamo la vite di regolazione e proviamo chiudiamo sempre provare a chiudere adesso dobbiamo asciugare l'alcol non so se è forte o se è piano questo io non lo so sarà piano regoliamo e regoliamo ok perfetto scendo un pochino ok scendo forse è entrato poco gas vediamo il tempo di stabilizzarsi e va bene così abbiamo finito grazie a tutti grazie a tutti